ciao a tutti raga bentornati a un nuovo video oggi vi darò consigli super completi su come abbattere Thanos a livello incollezionabile nel nuovo evento mensile ci sono 40 giorni di tempo chi ha giocato l'anno scorso magari si ricorda l'evento con i due Thanos prima di Avengers Infinity War è passato proprio un annetto era aprile e quindi oggi andremo a vedere tutti i consigli tutte le specifiche per battere non dico facilmente perché facile non si fa questo Thanos ve lo premetto da subito però vi do tutti i consigli vi consiglio anche di prendere appunti se volete perché il video è un po lungo vi spiego molte cose discorsive e ci sarà poca lotta ma molti consigli discorsivi quindi dovete imparare bene prima di lottare è inutile farvi vedere solo come ci si butta se non capite cosa sta facendo uno durante la lotta non ha molto senso buttarsi vi costa unità vi costa tempo e dovete ripartire da capo seconda cosa importante premessa ho i miei migliori personaggi bloccati in difesa attacco war quindi cosa è successo per farvi il video visto che vi serve adesso non tra una settimana perché io da domani non posso fare video domani raga lavoro di nuovo quindi posso farvelo solo oggi che è domenica per farvi video così ho iniziato ieri sera mi sono buttato dentro a testa bassa facendo più che potevo con i miei contributi così ve li faccio vedere quello che manca dopo vi aggiungo io i contributi mancanti tramite un altro metodo così questo video sarà comunque completamente coperto e spiegherà tutte le fasi per attaccare e sconfiggere completamente Thanos per quanto riguarda invece il discorso del perché non me lo sono fatto io lo stesso i giorni scorsi beh raga stavo lavorando fino a vero di non c'è molto da fare e per quello invece voglio finirmelo con calma gratis perché vi premetto una cosa se avete i personaggi che ho io quindi guardate un po il profilo bene o male un po di 5 stelle rango 5 si fa gratis attenzione si fa nel senso potete riuscire magari perdendo praticamente tutto il team ma potete riuscire a buttarlo giù senza spendere un singolo rianima si fa non è impossibile quindi con molta pazienza prendendoci bene la mano studiando se lo cosa voglio fare anch'io per non spendere neanche un'unità si fa quindi con calma guardatevi questo video seguitevelo bene vedrete che comunque da qui a una settimana due che ci avete preso la mano lo fate gratis adesso andiamo a vederci insieme esattamente di cosa si tratta quindi andiamo a vedere bene l'evento e andiamo a vedere molto bene come sconfiggere Thanos ed eccoci qui raga questo è un team x y qualunque che ho portato dentro per farvi vedere un attimo Thanos ci troviamo di fronte a lui prima di affrontarlo perché non vi sto parlando dei 5 mini boss precedenti primo perché sennò questo video diventa di un'ora e mezza e chi è che si guarda un video raga di un'ora e mezza a meno che non ci sia qualcosa di che so danno via soldi gratis roba del genere ecco nessun altro si guarda video di un'ora e mezza quindi secondo motivo molto più valido è perché ieri con la fretta di farvi questo video mi sono buttato dentro a ignoranza 2.0 nel senso proprio senza leggere niente niente mi sono buttato a testa bassa contro qualunque mini boss trovassi ho perso dunque al peggio due pg contro fauce ed ebano quindi il penultimo che c'è prima di Thanos con quello ho perso due personaggi perché i miei attacchi andavano a vuoto credo di essermi perso qualcosa chiaramente non avendo letto penso che ci sia qualche fase in cui i vostri attacchi vanno a vuoto lui vi devasta lo stesso nonostante questo a ignoranza pesante solo tirando pacche sono riuscito a passare perdendo due pg quindi mia deduzione personale si passa cioè se avete fretta si passa senza spendere lo stesso se avete personaggi abbastanza forti se non avete personaggi abbastanza forti vi consiglio visto che gli altri non erano niente di che come mini boss di soffermarvi almeno un attimo a leggere cosa fa fauce ed ebano cosa che non ho avuto il tempo di fare ma leggetelo perché probabilmente quella fase in cui è intangibile o qualcosa del genere vi devasta sicuramente c'è un modo mi pare con attacchi pesanti di aver capito leggendo quella nelle chat comunque leggete bene a parte questo raga è tutto fattibilissimo anche più dei normali eventi mensili proprio perché in fondo vi aspetta Thanos quando sarete qui direte beh dai c'è solo uno scontro da fare dai che è fatta portatemi Thanos no no non funziona così allora magari magari avere lo stormbreaker magari farlo secco in un colpo solo no allora quando sarete qua davanti rispetto ai due Thanos che c'erano l'anno scorso questo è molto più rognoso adesso vi faccio vedere perché ci sono un po di cose da capire da sapere però ci sono alcuni personaggi che vi serviranno di più di altri adesso è il momento di cominciare a prendere appunti perché adesso vi leggo le caratteristiche di Thanos e vediamo di capire insieme che cosa fa esattamente ok allora raga a parte questo che è una scemenza più tot per cento attacco salute questo è quello classico del nodo è qui che le cose si fanno fastidiose allora attenzione al di là del risveglio o meno di Thanos attenzione questo allora questo Thanos attraversa quattro stadi per la precisione il primo dal cento per cento al 95 per cento di salute in cui è un mite agnellino tra virgolette a parte picchiare forte se vi becca ma non fa niente di speciale poi tra il 95 per cento e 60 per cento attiva la prima fase tra il 60 per cento e il 30 per cento di salute attiva la seconda fase sotto il 30 per cento attiva la terza occhio allora adesso prendete bene gli appunti partiamo con come affrontare Thanos tra il 100 per cento di salute e il 60 per cento io unisco le prime due fasi perché c'è un buon motivo adesso andiamo a leggere innanzitutto che cosa fa allora quindi che ti importare qui cominciamo con i consigli seri tutti i campioni hanno un malus classe quando affrontano Thanos dopo aver affrontato Thanos per 10 secondi i vendicatori rovesciano le sorti della battaglia e ottengono un bonus classe per il resto dello scontro quindi possibilmente vi serviranno dei vendicatori ora vi chiederete ma quali sono i vendicatori qui nella descrizione in basso al video trovate i vari link ai miei canali telegram il link con the veder channel cioè il primo link che trovate è il canale telegram dove faccio le comunicazioni se andate su quel canale scorrete in su di qualche messaggio trovate proprio la tabella aggiornata con chi risulta vendicatore nel gioco se usate quelli non sarete più un vantaggio classe ma dopo 10 secondi avrete un vantaggio classe e questo già è una piccola cosa visto che più o meno sopra mezzo milione di vita questo Thanos conviene averci un vantaggio classe possibilmente poi guanto dell'infinito e qui vi spiega praticamente come funziona dopo aver attivato una gemma dell'infinito Thanos accumula potere in modo permanente a ritmo di una barra potere ogni 10 secondi ed è l'unico modo in cui può accumulare potere Thanos questo è una piccola magra consolazione nel senso che se vi picchia non prende potere ma comunque raga ogni 10 secondi e niente aspettatevi raffiche di speciali non c'è molto da fare quando la sua salute scende sotto il 95 per cento Thanos attiva il suo bozzolo primordiale e il potere massimo che potrà accumulare sarà pari a una barra potere quindi stessa cosa poi sotto il 60 e il 30 per cento perciò attenzione a questo allora Thanos tra il 95 e il 60 per cento può farvi massimo la speciale 1 tra il 60 e il 30 può farvi al massimo la 2 sotto il 30 vi fa sempre e solo la 3 appena arriva una barra piena o due barre piene o tre barre piene raga ve la fa subito non è che aspetta quindi rendetevi conto ve la scarica immediatamente tenetelo molto bene presente soprattutto nelle prime due fasi con una barra potere e due barre potere adesso andiamo a vedere un attimino in più cosa fa attenzione che questo è un plus che rompe abbastanza sotto il 40 per cento di salute Thanos è immune agli effetti di stordimento e questo credetemi rompe parecchio dovete prenderci molto bene la mano il guanto di Thanos gli conferisce tra l'altro immunità alla manipolazione potere avversaria e agli effetti di riduzione precisione abilità che tradotto vuol dire non potete usare tipo magic per abbassargli le barre potere lui lo guadagna comunque non c'è nessun pg che sia immune a questo effetto qui non potete impedirgli di guadagnare barre potere quindi regolatevi su chi portare ora partiamo con le prime due fasi cioè dal 100 per cento al 60 per cento di salute vi faccio vedere un video di come l'ho fatto allora Thanos si avvolge nel suo bozzolo primordiale attenzione riflettendo prendete bene appunti di questo riflettendo tutti i danni e gli stordimenti quindi non potete colpirlo non potete stordirlo contro l'attaccante perché li rivolge contro di voi e ottenendo per se stesso una probabilità di blocco perfetto pari al 100 per cento quindi detto in parole povere a parte mentre sta parando non lo potete picchiare non c'è molto da fare potete o schivare o picchiarlo mentre para però questo fino a che attivo l'effetto di bozzolo primordiale quindi finché attivo l'effetto di bozzolo se l'attaccante cioè voi colpisce il blocco di Thanos voi perché qui è scritto in maniera un pochettino ambigua voi prendete potere quindi oltre a colpirlo nel blocco le vostre varie potere si riempiono esattamente come se l'aveste colpito senza il blocco quindi è un buon modo di guadagnare potere e poi vi spiego perché vi conviene farlo se Thanos viene colpito da un attacco pesante o speciale il bozzolo primordiale sparisce e quindi tutti i suoi effetti fino a che non riattiva la speciale allora è qui la chiave adesso vi spiego due possibili anzi tre possibili tecniche prima cosa ho visto un video di chi l'ha fatto con Hyperion o Proxima perché vi dico questi due PG perché sono se abbastanza alti di rango quindi seri diciamo belli grossi riuscite a fare così tanti danni così in fretta che lo portate verso il 60% di salute molto velocemente questa è una buona via per non doversi preoccupare particolarmente diciamo degli effetti con Hyperion tra l'altro visto la crescita potere e gli effetti stordenti riuscite diciamo a concatenare speciali 2 a raffica quindi la tecnica quale sarebbe con Hyperion dal 100 al 95% lo picchiate conservandovi la speciale 3 pronta quando attiva il guanto con il 95% di salute scaricate la 3 così eliminate subito con l'armatura che riflette tutto e andate di raffiche di speciale 2 dopo stordire colpire stordire colpire raffiche di speciale 2 e avanti così scende e scende molto in fretta con Proxima invece chi è riuscito a fare le missioni di Proxima dal 100 al 95% di salute di Thanos e ce le ha già belle pronte se gli scarica la speciale e gli fa talmente tanti danni che riuscite a togliere di buona parte della sua salute e portarlo verso il 60% questo l'ho visto fare per attenzione con una prossima 6 stelle quindi con una prossima più bassa gli avrete sicuramente un po' meno salute con un personaggio invece normale tra virgolette allora con un personaggio normale cosa potete fare? potete tenervi pronta almeno una speciale 1 o una speciale 2 quando sta arrivando al 95% di salute appena attiva quella specialità lì e vi fa la speciale 1 voi dovete intercettarlo di speciale cosa vuol dire? siccome fargli un attacco pesante e rischiosetto la cosa migliore da fare è scaricargli in faccia la speciale quando sta per picchiarvi quindi proprio è lì lì a un centimetro per pestarvi voi gli scaricate la speciale 1 vi faccio vedere io come ho fatto nel video usando Starlord non è un personaggio che ha vantaggi particolari su Thanos ma si fa con quello potete affrontarlo intercettandolo di speciale così almeno ce l'avete pronta oppure potete anche azzardare e fargli un attacco pesante ma è il vostro rischio raga la cosa molto molto più semplice è fargli un intercetto di attacco speciale 1 vostro o 2 se poi avete un personaggio che ha crescita potere e quindi arriva molto in fretta al speciale 1 raga tanto meglio cioè avete che so l'occhi di svegliato? avete Mordo? avete Hyperion come dicevamo prima? tanto meglio raga se avete qualcuno che ha una velocissima crescita potere per arrivare al speciale 1 meglio così riuscite ad avere al speciale 1 bella pronta e neutralizzare Thanos vi faccio vedere il video di come ho fatto io e poi ci rivediamo subito dopo 1 2 2 4 5 Grazie a tutti. 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 Schivate indietro. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.